Sono Massimo Sirelli, sono qui oggi per tenere il corso dal click al like, un corso di avvicinamento a tutto il mondo del social networking, volto specificatamente a quelle figure che all'interno delle aziende si devono occupare delle vendite. Questo programma di oggi rientra nel corso di sale scout pone l'obiettivo appunto di capire meglio quali sono i piani di persuasione e le tecniche, le strategie per comunicare bene sui social network.